Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo troll al mini Come vedete qua ragazzi oggi abbiamo comprato il nuovo iphone al mini Perché tutti sapete che il mini ha rotto il telefono Aspettate ve lo faccio vedere subito Eccolo qua come vedete il mini ha rotto il telefono Ragazzi non chiedete come Non chiedetemi come sia possibile E ovviamente noi abbiamo comprato Ovviamente Oh my god Wow Il nuovo iphone ragazzi guardate che iphone Pazzesco ragazzi innovativo Cioè ragazzi questo qua lo potete tirare dal quarto piano Del condominio e questo qua sopravvive ragazzi Quindi ragazzi visto che il mini Voleva un nuovo No ragazzi si prende male No ragazzi si prende male A noi cosa ce ne frega ragazzi E noi che ha rotto il telefono guardate ragazzi Iphone nuovo ragazzi Come si fa a rompere un iphone in questo modo ragazzi Cioè ma poi gli ha messo anche Ma che cavolo gli metti la pellicola Che è andato questo telefono Ma ragazzi Il mini ha combinato un casino Sto pensando bene Perché ragazzi devo capire come Come scappare Perché secondo me mi mena Secondo me mi mena ragazzi Boh Speriamo non si prenda male ragazzi Ragazzi io vi chiedo di lasciare un bel like Di condividere questo video Perché il mini Dopo questo video Io non so se ancora mi parlerà Perché è tre mesi Se non quattro raga Che è senza telefono E io lo sto continuando a prendere in giro Quindi sistemiamo il tutto Addirittura qua Merry Christmas Happy Christmas Happy Ah no happy birthday Buon compleanno La roba qua La roba qua è luxury Questo qua Questo qua lo mettiamo nelle tasche Tanto è andato Pregate per me ragazzi Vi prego lasciate like Iscrivetevi perché siamo quasi a mezzo Siamo quasi a mezzo migliore Dovete lasciare like ragazzi Dovete lasciare like Così poi forse gli compriamo un telefono Vero Perché secondo me non mi parlerà Finché non riprendere un telefono No ragazzi Ma perché Perché lo sto facendo Te ricorda Facciamole Impocchettiamo qua Impocchettiamo qua Sì però raga Serve una frase d'effetto Aspettate Serve una frase d'effetto Per Il Mio Fratellino Fratellino Bello Bello perché lui è bello Sexy Mettiamo un cuore Che cuore di Un cuore che wow Andiamo Andiamo Ragazzi Fini la domanda Fini la domanda Lo so Giochi Non so perché Lo sto facendo Vi prego lasciate Il mic Condividete Iscrivetevi Per favore Per favore Sì Quasi a mezzo migliore A mezzo migliore Per gli smettamenti Per i miei video Sì raga Oddio Ciao Ciao Come stai capo E' bene E' tutto bene Con chi stai giocando Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere Vai Però fatti rispettare Fatti rispettare Vai 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 Attenzione il mini Mongra Mini Mongra Ma come cavolo costruisci Come Ma come cavolo costruisci Vai 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 Mini Mongra Attenzione il mini Mongra Attenzione 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 Vediamo 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 E' Io ce l'ho Ce l'ho io Ce l'ho io il tuo telefono Lo vuoi vedere? Cosa stai dicendo Quello che c'è qua L'iPhone 16? Ah quello che c'ha il Face ID Si chiama Face ID Ho capito L'iPhone il Face ID si dice Ma io l'ho portato dal tecnico Ok E mi ha detto che è irrisolvibile Perché non siamo arrivati a mezzo milione E la gente non si è iscritta Il tecnico mi ha detto Il tecnico mi ha detto Bro lascia stare C'è il tecnico bro Quindi la gente cosa deve Iscrivetevi iscrivete per favore Ma secondo te il tecnico mi ha detto Ma cosa stai dicendo Il tecnico ha detto che serve la scheda madre Questo è andato Ti giuro è morto Però io Da quando è che non hai il telefono? Da più di tre mesi no? Quattro mesi Quattro mesi Io 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 ti lascerei mai senza telefono Eh? Sì 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 Io ti lascerei mai senza telefono Io ti lascerei mai senza telefono No non mi dire Io ti lascerei mai senza telefono Fra secondo te veramente io ti lascerei senza telefono fra No Leggi qua cosa c'è scritto Per il mini Per il mio Fratellino Vrio Ah bello il chamarbello Il chamarasino Fermo Fermo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh che cavolo vuole? Che cavolo sei impazzito? Aspetta 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 Fermo Fermo Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Aspetta Chiudi gli occhi Aspetta Aspetta che voglio cambiare modalità Voglio zoomare fuori Zoom Oh ok Ora si vieni Vieni a me Pokémon leggendario Apri gli occhi No No Non ci posso credere Non ci posso credere Un bacio in me Un bacio Elay Ti ho lasciato mai senza telefono Io Io ci penso sempre Ci penso sempre io a te Fra Sempre Guarda stavi giocando Io ti ho portato il telefono nuovo Fra Allora provate Adesso devi dire la gente Iscriversi Per fuori ragazzi Iscrivete Per fuori Perché questo lì lo vendo Lo vendo Sei pronto? È giunto l'ora Vai a vedere cosa c'è l'entra Non ci posso credere Piano però Piano che nuovo Fra Guarda questa roba qua bellissima Che io volevo Apri giuro Che iPhone è? Eh? Apri 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 No 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 Aspetta Guarda bene Vai Dips mille Dips mille Vai Apri 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 No 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 Sopra Ma 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 ci posso I cosecci Qui Non Manco mio l'ormo Ce l'ha Manco mio l'ormo Dai Fra C'è Alla fine È uno scherzo Non è niente Però È uno scherzo Sei serio? Io? Ciao al vero A teléfono Stavo scherzando Stavo scherzando Aspetta lì Chiudi gli occhi Apri gli occhi Il cibo Non si scherzi col cibo Dai Fra Dai La prossima volta Però La prossima volta Dai 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 Un'altra Un'altra volta Un'altra volta Dai Scusami Tu non mangi la banana iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro E poi mi esce questa Dai 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 Un'altra volta Dai 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 Sempre amici Dai Sempre 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 Dai Scherzo Dai Non scherzo No 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 Perché Perché poi Telefono Poi la banana Poi l'iPhone Ma se ti sei matto Sei matto Perché oggi ti sei svegliato Svegliato E poi E poi Spendi Sospetto da sola Svegliato Grazie.